Siamo a Iessi, in provincia di Ancona, nelle Marche, presso la sede della Trevalli Coperlat, che è una cooperativa di allevatori che conferiscono latte e che hanno investito nella qualità il loro principale plus. Ed è per questo che è stata scelta come fornitore della Cop. Coperlat nasce nel 1982 per rilevare una piccola centrale del latte e da quel momento è iniziata ad espandersi ed è diventato attualmente il terzo gruppo lattiero caseario e dai pochi allevatori che l'avevano rilevata adesso abbiamo associati circa mille allevatori italiani. La cooperativa ha acquisito altre strutture ed è adesso in grado di produrre formaggi, formaggi a base di latte bovino ma anche di latte ovino e mozzarella come mozzarella STG, ma nel suo paniere ha anche altri prodotti come i formaggi DOP e Casciotto d'Urbino e il formaggio di Fossa. Inoltre in questo stabilimento si è investito anche nelle tecnologie, nella ricerca. Il valore di una cooperativa sono i soci. I soci sono in questo caso degli allevatori che producono del latte, latte fresco, latte di alta qualità e la cooperativa si impegna a mantenere questo valore del latte prodotto dalle mucche in questi e bei ambienti per tutta la filiera, per arrivare poi fresco sui banconi della Cop proprio per soddisfare il consumatore finale. Forse la matrice comune che lega Cop a Coperlat, Coperlat Trevalli che è la base sociale, sono i soci, ha creato subito una sintonia tra le due aziende. La ricerca della qualità e della freschezza che cercava Cop e il fatto che Copperlat Trevalli fa qualità e fa freschezza. Il latte che giunge nell'azienda viene analizzato, un laboratorio di analisi di prima categoria posso dire tranquillamente e con pochissimi trattamenti il latte viene poi imbottigliato e arriva sul bancone di Cop dove il consumatore finale che è poi il cuore di questa cooperativa può apprezzare e comprare e acquistare questo prodotto di qualità.